Con il Presidente del Gremio dei Muratori in itinere è una grande festa, quella del prossimo 2 agosto, che vi vedrà impegnati in prima persona con la collaborazione della Cassa Idile alla festa del vostro gremio. Un qualcosa di ormai consolidato, che è una sorta di ringraziamento per tutti coloro i quali del loro lavoro fanno veramente qualcosa di importante. Poi il vostro gremio è riconosciuto proprio per la mutualità che ha nei confronti di chi con loro collabora. Sì, oltre ai consolidati festeggiamenti religiosi c'è questo felice ritrovamento, quindi si rinnova questo connubio tra la Cassa Idile provinciale del Nord Sardegna e il gremio dei muratori, quindi due categorie, due istituzioni che felicemente si ritrovano e daranno vita a una serata che sarà partecipata, ci auguriamo al massimo, da tutta la cittadinanza. Questi festeggiamenti vogliono essere anche un ringraziamento appunto alla categoria e un'attenzione particolare proprio verso l'arte del muratore. Una vera e propria arte, qualcosa che insomma Sassari, scusa il gioco di parole, ha costruito negli anni. Ma soprattutto questa sinergia con la Cassa Idile che praticamente è il vostro garante per eccellenza, visto che noi sappiamo per certo che è una delle poche istituzioni che realmente vi sta vicini, non solo a voi come maestranze, ma soprattutto va di pari passo e abbraccetto con quello che è l'imprenditorialità sassarese. Sono davvero tanti. Sì, devo dire che è un felice connubio. Auguriamo che anche gli altri gremi possano direttamente ritrovare i loro partner naturali. Quindi faccio un esempio, un muratore con la Cassa Idile in Nord Sardegna, ma penso anche agli stessi Massai, come potrebbe essere la Coldiretti e via via su questa linea. Raimondo, ci si aspetta tanta gente, è una grande festa open naturalmente per tutti. Vogliamo invitare i nostri concittadini? Assolutamente sì, vi aspettiamo numerosi a Santa Maria. Colgo l'occasione anche per ringraziare l'amministrazione comunale per aver dato in tempi brevissimi il patrocino gratuito a questa festa. Vi aspettiamo.